450 atleti di cui 150 stranieri animeranno l'Aquila il prossimo weekend. 21, 22 e 23 maggio ritorneranno nel capoluogo gli internazionali d'Italia Open con campionato nazionale Xen 2021, secondo Memorial Romano Maria Cacciani e ottavo Memorial Angelo Onorato. Una manifestazione internazionale di pattinaggio su pista e su strada organizzata dalla CPGA International Events. Questo è il progetto per dimostrare come è successo nel passato per i mondiali 2004 che l'Aquila è in grado di ospitare l'anno prossimo i campionati europei in totale senza dover trasferire nulla in altre città e quindi dimostrare che possiamo fare i campionati europei su pista, sul circuito stradale e di maratona. Le gare si svolgeranno sulla pista comunale di Santa Barbara e poi gran finale domenica sul circuito stradale cittadino di Viale Corrado IV fino ad arrivare a Via della Croce Rossa. Una giornata speciale in cui si celebrerà anche una tappa della Coppa del Mondo di Maratona Week, World in Line Cup. Si può seguire sul canale YouTube e su Facebook. Quello degli internazionali d'Italia che Mario Miconi ha avuto la follia di continuare a organizzare in una situazione così difficile come quella attuale con il Covid premia la regione Abruzzo, premia l'Aquila, premia Mario Miconi. Circa 70 le associazioni e le società sportive provenienti da tutta la penisola. Sport a grande livello ma anche alberghi pieni e strutture ricettive che accoglieranno un evento che muoverà più di 2.000 persone. Quindi è un nuovo rilancio della città dell'Aquila che dopo il Mondiale del 2004 è conosciuto in tutto il mondo quale città sede di grandi attività sportive, in particolare del pattinaggio. Un'avventura che la regione sposa sin da oggi a pieno e che sosterrà con forza ma una visione così quella che abbiamo voluto impostare di promuovere i grandi eventi sul territorio regionale magari rispettando le vocazioni dei singoli territori ma la ricaduta socio-economica di un grande evento è un po' la linfa vitale che il territorio abruzzese e le tante attività che sono state loro malgrado chiuse in questi due anni aspettano con forza come linfa vitale da portare sul territorio.